Io e Marta abbiamo fatto un lavoro che troverete adesso lungo il percorso. Abbiamo pensato, siccome questo, da come mi dicevano, è il percorso antico che facevano per arrivare giù a Frosinone, allora noi vogliamo oggi lasciare una traccia di quello che invece stiamo ripercorrendo oggi. Quindi vi invitiamo a bagnare i piedi nel colore e a lasciare la traccia sui teli. Così, c'è viola mamma. Se ne metto troppo, poi da così. Allora, adesso il colore viola. Porta in timbri così e adesso la ruffa. Aspetta, non mi andare così, zappicando così che la metto poco più in là. Mi resta. Sì, vabbè, ma non so. Questo è il verde di questi due. Una scarpa sull'acqua. Sì, sì. La poca la rinforzata. Quindi il verde con le foglie l'avete fatto? No, quello è il colore con quei fiori gialli che stanno lì. Ho capito, quelli che stanno là per terra. Questo invece è il papà vero. Buongiorno. 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 Grazie a tutti